Portare Nanni Moretti a Mosca è questo il sogno del neodirettore dell'Istituto Italiano di Cultura nella capitale russa Olga Strada. Per quel che riguarda Moretti uno dei miei progetti nel cassetto è quello per il prossimo anno nell'ambito del Festival del Nuovo Cinema Italiano che si svolge annualmente a Mosca e San Pietroburgo è quello di dedicargli una retrospettiva e di invitarlo sperando che lui accetti questo invito. Un lavoro che parte anche da due altri progetti, uno dei quali è già in cantiere. Quest'anno sono i 750 anni dalla nascita di Dante e sicuramente una prima cosa sarà rivolta a questo e ho già in mente, ho già un'idea, adesso speriamo che si possa realizzare e una seconda cosa che è già diciamo in atto, tra un po' ci sarà la terza biennale degli Urali e non hanno mai partecipato artisti italiani e quest'anno su una base di una rosa di nomi che è stata proposta al curatore russo di questa biennale parteciperà un artista romano che farà un'installazione site specific all'interno di uno di questi siti della biennale degli Urali. Ci può anticipare il nome dell'artista romano? L'artista romano si chiama Jacopo Mandic. Più in generale, Strada, che inizierà il suo incarico dalla metà di luglio, intende fare conoscere sempre di più le nostre culture in Russia. Promuovere la cultura italiana, fare conoscere quelle pagine della nostra storia, della nostra cultura che ancora sono poco conosciute in Russia e naturalmente tutto questo il più possibile a 360 gradi, per cui dall'arte al cinema, alla letteratura, alla moda, insomma tutto quello che nel nostro sentire comune è cultura.